Il mondo della scultura e dell'arte in generale ha subito la rivoluzione dei mezzi tecnologici come tutti i campi dell'attività umana e invece di subirli passivamente li ha utilizzati in maniera attiva. La tecnologia incontra l'arte per renderla realmente fruibile a tutti, a chi è distante e a chi, come le persone non vedenti o ipovedenti, avrebbero difficoltà ad ammirarla. La scultura è la lezione che arriva da Pescia, dove il liceo artistico Berlinghieri si è reso protagonista di un interessante progetto. Grazie alla collaborazione della Diocesi, del Comune della Città dei Fiori, della sovraintendenza, l'indispensabile aiuto del locale Lions Club e dell'azienda 3DZ Toscana, la scuola si è lanciata nella creazione di repliche in tre dimensioni del trittico robbiano della Madonna con Bambino e Angeli, San Giacomo e San Biagino, custodito nella cattedrale di Pescia e di alcune opere che si trovano nella gipsoteca cittadina. Lo strumento utilizzato è uno speciale scanner che permette di ricreare digitalmente le opere scultore per poi dar vita a modelli digitali fedelissimi alle originali o stampe 3D. Proietta delle bande luminose sugli oggetti, poi le due telecamere dello strumento che cosa fanno? Rilevano la deformazione di questa sorgente luminosa sugli oggetti e il software riesce ad acquisire una nuvola dei punti nello spazio e quindi viene ricostruito in questo modo digitalmente l'opera fisica. E questo ci permette poi di fare tutta una serie di elaborazioni che possono essere ad esempio ricostruire una parte mancante oppure come per questo progetto fare una riproduzione anche in scala oppure uno a uno degli oggetti per dare la possibilità alle persone non vedenti di toccare delle opere che altrimenti gliele potrebbero solo raccontare. Che ne sarà della scandalizzazione della robia e delle scandalizzazioni fatte qui oggi alla gipsoteca? Abbiamo provato a ipotizzare il loro uso più vasto possibile. Nel caso della palla della robia sarà utilizzata dagli esperti dell'arte, del restauro e della conservazione. Anche le opere che scannerizziamo oggi potranno essere usate per essere viste a distanza e visto che una statua si deve vedere girandola intorno sarà possibile farlo virtualmente a distanza.